Toc toc, pronto prova? Mi sentite? Ok ragazzi, ci siamo. Discorsetto importante da fare. Prima di andare avanti, dico già subito le cose più importanti per coloro che di solito amano non guardare tutto il mio video. Quindi rispondo subito alle domande di quelle persone che guardano un secondo di video e poi schippano. Continuerò a giocare a StumbleGuys, quindi non mollo StumbleGuys. Il mio nickname tornerà rosso con C11SparksM come sempre, quindi tranquilli e solamente l'ho cambiato per un torneo. E basta, adesso vi racconto però nel video, per quelli che continueranno a guardare il video, racconterò tutto ciò che è successo ieri durante il mio torneo e vi spiego quello che succederà nei giorni a venire. Già si nota la mia voce un po' più seria perché è successa una cosa brutta per l'ennesima volta e adesso ne parliamo per bene. Stavolta ragazzi non ci saranno altre chance. Detto questo vi raccomando, iscrizione, campanellina e sempre mi piace per supportare il vostro Sparxone. Iniziamo subito col video. Eccoci qua, oggi ho messo SSSS Sparx perché era l'unico nick disponibile perché durante il torneo mio di sabato, quindi di ieri, ho cambiato il mio nick perché purtroppo avevano fatto un errore i develop e hanno messo il pugno infuocato. Che è successo? Era diventato impossibile giocare il torneo perché tutti mi davano pugni essendo il nick rosso e quindi ho cambiato un nick in bianco, tipo ho messo delle lettere a caso per continuare a giocare un po' il torneo, anche se non ha avuto gli effetti desiderati. I pugni arrivavano lo stesso. Qualche settimana fa, mettiamo la cam grande perché è una cosa che devo parlare proprio faccia a faccia con voi. Qualche settimana fa avevo fatto un post su Instagram, una storia, dove dicevo che ero esausto di questa cosa, di essere insultato e di essere offeso durante i tornei, ok? Perché durante i tornei c'era sempre qualcuno che perdeva e mi augurava il cancro, ok? Sempre così, mi muore col cancro, mi muore di cancro, bla bla bla, cose che sicuramente vengono dette da bambino, ok? Ma non sempre, perché molte volte sono anche ragazzi un pochettino più grandetti, tipo 15, 16, 17 anni. Sono sempre pur bambini, però vengono plagiati da altri che fanno queste cose e quindi per sentirsi fighi fanno queste scelte. Cosa è successo? Grazie a questi bambini, ragazzi, io ieri ero talmente distrutto, perché voi forse non sapete cosa c'è dietro il lavoro di un content creator, cioè io non è che sono obbligato a fare le live e a fare i tornei, lo faccio per divertirmi. Quando io faccio una live dove io organizzo un torneo, che a me non mi pagano per i tornei, non mi danno gemme, non mi danno nulla, non guadagno nemmeno spettatori, perché durante i miei tornei non è che faccio tutti questi spettatori in più, eh? Quindi non è nemmeno per quello, lo faccio solamente perché amo divertirmi nei tornei con voi. Quindi so che facendo un torneo io faccio felici voi. Cosa succede? Non tutti sono riusciti a capire questa cosa, non tutti hanno capito la mia bontà nel fare questa cosa qua. Che è successo? La prima volta, quando ho cambiato il torneo, quindi l'ho tolto da Blockdash, dato che ci sono 3 milioni di tornei Blockdash e anche se oggi guardiamo tornei ci sarà sicuramente un torneo con Blockdash, sono una persona che ama tanto le race invece dell'Elimination Map. Quindi ho cambiato il mio format in race, che è molto bello, a molti piace, ma c'è sempre quella piccola community toxic che ha iniziato a insultarmi. Alcuni durante la live sono stati bannati, ma fuori dalla live pure nel mio vecchio server disco, dove poi ho cancellato perché ero stanco di essere preso di mira da tutti questi bulletti piccolini, quindi ho distrutto il server perché non me ne frega, perché io volevo una vita più serena. Adesso abbiamo solamente il server dedicato agli abbonati. Non è una questione di soldi, è una questione di relax mentale, perché avere un server enorme, eravamo quasi 10.000, ma avere il 50%, il 60% di persone che nemmeno seguivano le mie live, nemmeno guardavano i video, erano lì solo per StumbleGuys, ed erano lì anche per insultarmi perché a maggior parte erano travestiti da fan, nemmeno erano haters dentro, perché cavolo dovevo tenere un server che mi stava rovinando veramente, era veramente diventato un cancro, non è che io veramente stavo a morire da cancro in quel momento, cioè veramente il cancro del server, il cancro di StumbleGuys mi stava distruggendo a me. Quindi ho deciso di cancellare quel server Discord, cosa che molti non hanno capito, ho deciso di cancellare il mio server Discord proprio perché era pieno di gente toxic, perché io volevo, ora non capite quanto stress ci sia dietro il lavoro da YouTuber, non è facile come pensate, non è facile gestire tutti voi, c'è la gente per bene, c'è gente tantissima, gente per bene che io amo, che ogni giorno mi fa complimenti, che mi risolleva il morale, c'è gente però veramente anche, perché uno poi non ci fa caso, tipo tu puoi ricevere 20 complimenti, poi te ne arrivano 2-3 che ti insultano, e quei 2-3 ti feriscono a morte e ti rovinano la giornata. E se voi fate conto che ogni giorno arriva un insulto, io ogni giorno vivevo male, quindi ogni giorno dietro vivevo male, non era bello per me. Questo è il motivo perché ho chiuso Discord, non è per i soldi, ma è perché stavo male interiormente, e molti di voi non l'hanno capito. Seconda cosa, avevo detto che non avrei fatto più tornei, perché veramente ogni volta che c'era un torneo, veniva gente a rovinarmi, sia le live che le giornate. Allora, molti di voi si sono riuniti, hanno fatto tantissimi messaggi, mi hanno convinto a dire ok basta, è successo, non succederà più sicuramente, la maggior parte non sono dibannati e tutto. Che è successo ieri? Nonostante la live, e nonostante io in live ho detto, oh mio Dio, hanno combinato un casino con gli Istanbul Guys, questo non è il mio torneo. Hanno messo i pugni, hanno messo delle mappe che non erano le mie, hanno messo di tutto, quindi non è il torneo che volevo organizzare io, è un torneo di non so quanti mesi fa. Il pugno infocato non era ancora tra le moz, quando il torneo che di mesi fa non esisteva ancora, il pugno infocato. Quindi in automatico si è aggiunto il pugno nel torneo. Così, in automatico. Molte persone sono pronti in live a dire ma come cavolo fai a mettere il pugno in una race e mi hanno iniziato a insultare di tutti nella live, cioè io stavo lavorando, perché la live ho il lavoro, stavo lavorando e sono molte persone a insultarmi, durante le percetut tutti hanno visto, a insultarmi, a augurarmi la morte, a augurarmi il cancro, a augurarmi cose bruttissime in live, tanti bannati, tanto che io appena è fine del torneo ho staccato la live perché non ne potevo più. Persone che mi hanno rovinato la giornata, mi hanno rovinato anche il mio lavoro, perché stare in live è comunque il mio lavoro, e io ho staccato la live per queste persone, quindi per colpa loro io non ho potuto più continuare la live. Detto questo, cosa è successo? Grazie a queste poche persone, che poi non erano poche, ma a me non erano le cinquantina ieri, anche forse di più, rendiamoci conto di quanto sia toxic il livello di StumbleGuys in questo momento, ero talmente esausto che io sono andato a parlare con i community manager di StumbleGuys, chiedendo spiegazioni del mio torneo. Loro non hanno dato, non mi hanno voluto dare, diciamo, importanza su questa cosa. Mi hanno detto che la colpa era mia perché non dovevo dire alla mia community come doveva essere il torneo, perché in teoria fin quando loro non accettano il torneo non è quello. Ora, scusatemi una cosa, ma quindi cosa vi devo rispondere io quando la gente mi chiede, Sparks com'è il torneo? Che cosa gli devo rispondere io se loro non mi danno nemmeno informazione? Non lo so. Cioè io devo castare un torneo, con scritto Sparks, che però in teoria non so nemmeno come è fatto, questo mi stanno dicendo, quindi io ho detto guardate, io sono veramente, ero veramente arrabbiato, ho detto guarda se voi non avete nemmeno il coraggio di scusarvi su questa cosa che è successa, allora facciamo così, da oggi in poi io non organizzerò più tornei. Gli ho detto in faccia, perché non è possibile che loro non si assumano la colpa di quello che è successo, dato che io ho organizzato un torneo sette giorni prima, quindi sette giorni fa ho organizzato il mio torneo, e dopo sette giorni non sono riuscito nemmeno a fare un torneo, non me ne frega niente se c'è la Stumble Cup, perché la Stumble Cup era solamente di streamare, non è che devono fare non so che cosa, erano delle live che devono fare i loro content creator, e se c'è un torneo dopo, hanno penso 11-12 community manager, hanno abbastanza staff da poter prendersi cura dei content creator, se no mi dicono, Sparks non abbiamo la credenza del tuo torneo in tempo, questa settimana salta, mi dicono in questo modo, non è che mi lasciano nel dubbio di cosa potrebbe accadere nel mio torneo, non è giusto questo qua, perché in questo qua forse per loro non hanno capito che per me è un lavoro, non è che sono ragazzino di 5 anni, o di 10 anni che fa le live su YouTube, sono una persona che fa le live a livello professionale, quindi se io faccio un torneo ho bisogno di serie tag da parte loro, non mi hanno chiesto scusa, gli ho detto che non farò più tornei, gli ho detto che non farò più tornei anche per colpa della community toxic, quindi per ora io non farò più tornei, per un bel po', gli ho detto guarda mi prendo una pausa, per un po' di settimane non voglio fare più tornei, alla fine hanno capito la situazione, hanno visto che non era stata veramente colpa mia, perché c'erano i pugni, e mi hanno chiesto scusa, nonostante questa cosa qua, io non farò lo stesso il torneo, perché è una questione di principio, perché io ogni volta mi devo, mi devo assorbire tutte le persone che mi insultano, quindi io per ora voglio un po' di relax, per un pa' di settimane, la community toxic si merita di non avere i miei tornei, perché comunque è vero, anche quelli là per bene, che comunque non c'entrano niente, non faranno i tornei, però ci sono tantissimi tornei, però ragazzi dovete pensare anche a me, io ho bisogno di serenità, se i tornei mi stanno portando a passare delle giornate brutte, dovete pensare che io, vuol dire che dentro di me sto male, quindi dovete capire che se non faccio i tornei, è perché voglio tornare a stare bene, quindi tutti coloro che commenteranno con, non ti prego continua a fare i tornei, vuol dire che gli frega più dei tornei che dei Sparks, quindi per favore non commentate con Sparks, continua a fare i tornei, quando io starò meglio, e quando lo staff di StumbleGuys, prenderà più a cuore queste cose qua, io tornerò a fare i tornei, punto, capitolo chiuso, ci tenevo a dirvi questa cosa qua, e adesso ragazzi, io chiudo questo piccolo video, ci vediamo domani di nuovo con i video normali, domani faremo un po' di video, perché devo trovare delle nuove skin, c'è la ruby, la skin di San Valentino, che non voglio trovare a tutti i costi, quindi faremo nuove challenge, torneranno i video normali come sempre, quindi ci vediamo nei video, solamente che sabato non ci sarà più il mio torneo, spero che voi riuscite a capire questa situazione, voglio mettere un'altra parentesi, tranquilli non esco dai content creator ufficiali, sarò sempre un content creator, quindi avrò sempre le bete in anteprima, avrò sempre delle skin da regalarvi, avrò sempre qualcosa da regalarvi, anche le gemme, gli Istanbul tokens in live, le mie live saranno tutti i giorni, tranne la domenica, dalle 5 alle 6, o dalle 6 alle 7, quindi farò un'oretta, un'oretta e mezza di live, i miei video usciranno sempre alle 2 e mezza, poi c'è un video che esce alle 3-4 sul secondo canale, un video che esce alle 4 e mezza, 5 sul terzo canale, quindi ogni giorno vi sto sfornando almeno, un video al giorno di ogni canale, sto lavorando duramente, detto questo ragazzi, io spero che voi mi supportarete sempre, diciamo no ai toxic, perché tanta gente è uscita da questo gioco, per colpa della community toxic, è uscito maluco, è uscito Raxor, sono uscite tante persone dai tornei, che non fanno più tornei, chiude il video, vi voglio bene, mi dispiace che non farò più tornei, però per ora non ne faccio, poi magari più avanti ne farò, sono sicuro che siete abbastanza maturi, da capire questa situazione, noi ci vediamo in un prossimo video, detto questo ringraziamo tutti coloro, che ogni giorno mi insultano, e mi hanno curato la morte, perché grazie a loro, avrete un contenuto in meno, cioè i tornei, da Sparks è tutto, mi raccomando, like, iscrizione, campanella in attivo, voglio tantissimi mi piace, per vedere se supportate veramente Sparks, bella. Ciao a tutti, Grazie a tutti.